Allora, io sono coach manager formatore all'Istituto Bagarozzi di Roma. Ringrazio per questo premio perché è grazie a loro che ho imparato a essere positivo nella vita. Ho imparato a difendermi dalla vocina interna che senti la mattina. Ma ci si sta tenendo la bocca così. Se quella vocina, come di Arsi, ti dice buongiorno, volevo ricordarti che sei un grandissimo pezzo di merda, ecco che subentra il negativo. Allora voi dovete liberarvi di tutte le negatività, come dico nel mio libro, nel capitolo doccia mentale. Mi fanno ridere quelli che credono astrologia, che dicono Marte è influenza. Ma che influenza Marte? Gli mandiamo queste sonde e sti robotelli che camminano. Marte dice buongiorno, ma che cazzo non è male? Quella dice, c'ho Saturno contro. Saturno dice buongiorno, ma chi sei? Sto 800 milioni di chilometri, ma che ti senti? Ah!